caro diabete eccoci qua 18 anni insieme tu ufficialmente maggiorenne e io beh con molta più esperienza ti ricordi quando sei entrato nella mia vita avevo 19 anni e pensavo che fosse finita credevo che il lavoro lo sport la vita normale fossero ormai fuori portata e invece paradossalmente sei diventato la mia sfida e il mio stimolo non ti mentirò spesso ti detesto sei lì ogni giorno a ricordarmi che ci sei a complicarmi i piani soprattutto quando voglio allenarmi come ben sai ho iniziato a fare crossfit quasi cinque anni fa per provare qualcosa di nuovo e per cercare lo sport che più potesse aiutarmi con le glicemie e metterti in difficoltà certo ci sono quei momenti in cui arrivi con le tue ipoglicemie e le tue iperglicemie cercando di mettermi bastoni tra le ruote ma sai una cosa non mi fermo anzi proprio grazie al crossfit mi sento più forte più in controllo ogni volta che finisco un allenamento è come se ti avessi dato una lezione ed è anche per questo oltre al fatto che mi piace che lo faccio tutti i giorni quindi sì caro diabete nonostante tu sia una presenza costante e a volte pesante mi ha insegnato qualcosa mi hai spinto a raccontare agli altri chi sei e come convivere con te mi ha insegnato a essere più paziente e meno impulsivo anche se ogni tanto ci ricasco perché ho fretta di gestirti e devo prendere una decisione e soprattutto mi hai fatto capire che posso vivere serenamente senza farmi limitare da te sei il mio avversario quotidiano ma fidati non ti lascio vincere oggi festeggiamo i tuoi 18 anni ma non aspettarti una torta e se mai ci fosse stai certo che non te ne lascerei nemmeno una fetta con poco affetto Luca